I giovani dalla forza dei sogni alla concretezza dei segni è stato il tema dell'Assemblea Diocesana delle Caritas Parrocchiali. Ad introdurre l'incontro un momento di preghiera guidato dal Vescovo Monsignor Trasardi. L'augurio affermato il Vescovo è che tutte le associazioni di volontariato abbiano con il tempo un unico comune denominatore, Caritas. Angiolo Farnetti, direttore della Caritas Diocesana, ha introdotto il relatore della serata Don Mimmo Battaglia. Sacerdote di Catanzaro, sacerdote di strada, come lui stesso si definisce sempre in prima linea nella prevenzione delle dipendenze e presidente della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche, il quale, partendo proprio dall'esperienza di chi ogni giorno si trova a dover sostenere i ragazzi in difficoltà, ha sottolineato l'importanza dell'educare. Questo significa fondamentalmente la capacità che è dentro ciascuno di noi, ma che soprattutto è dono del Signore, davvero di essere capaci di andare incontro a quelle che sono le fragilità e le debolezze e quindi anche la povertà e le ferite degli altri. E tutto questo lo si può fare nella misura in cui siamo capaci di partire da quelle che sono le nostre fragilità e le nostre debolezze, perché noi non siamo assolutamente esenti da fragilità e debolezze. E quello che è importante è ricordare sempre la parola del Vangelo, che dice nella misura in cui sarai capace di guarire quelle che sono le ferite degli altri, si rimarginerà anche la tua ferita. E questo è importante ed è da qui che dobbiamo partire.